il modo in cui si comunica mia mamma con me su internet fa straridere mi scrive questo ero a Parigi tra l'altro nei giorni che ti dicevo ciao domani parto e io le scrivo beata te col punto esclamativo di solito si dice buon viaggio e io le scrivo sentiamoci domani scema con tre cuori mia madre non saprai più nulla di me se vuoi mi chiami tu risposta mamma ma sei ubriaca con le faccine che ridono risposta non mi sentirei più per 15 giorni ciao anche il timer l'ha messo lei 15 giorni le mando una foto con la tigre bianca e le rispondo il mio nuovo animale domestico per ridere mia mamma secondo te cosa mi ha risposto? mi dice sei pazzo un altro impegno no cioè io le ho scritte a mamma sto scherzando per fare una foto secondo te mi prendo una tigre bianca non ha messo neanche ma non ha messo in discussione che potesse non essere vera questa